Terra Amara, cambio programmazione marzo, la SOP di domenica al posto di Amici 22. Cambio programmazione per Terra Amara nel palinsesto di Canale 5. Dopo il grande successo di ascolti registrato in questi mesi. La SOP opera conquisterà anche la domenica pomeriggio. Complice la sospensione del pomeridiano di Amici 22, che dal 18 marzo debutta in prime time con la fase serale del talent show. Ecco che l'appuntamento con la SOP che vede protagonisti Yilmaz, Zuleya, Demir e Uncar occuperà anche il prestigioso slot del Daitime Domenicale. Secondo quanto appreso da Blasting News, dal 19 marzo il pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche legate alla sospensione del pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi saluterà il pubblico del pomeriggio festivo di Canale 5 il 12 marzo con la messa in onda dell'ultima puntata in Daitime prima dell'inizio del serale. Di conseguenza, per non lasciare scoperta la fascia oraria che va dalle 14 alle 16 e 30 e permettere che domenica in possa registrare un boom di ascolti su Rai 1. Ecco che Mediaset ha scelto di schierare in campo le SOP del pomeriggio contro Mara Venier. Si partirà con Beautiful, di cui è prevista la messa in onda di una doppia puntata al termine dell'Arca di Noè. A seguire spazio una doppia puntata di Terra Amara, che andrà a sostituire Amici conquistando così la fascia della domenica pomeriggio di Canale 5 e assicurando un ottimo traino all'appuntamento festivo con Verissimo. Intanto gli ascolti della SOP opera continuano a essere eccezionali sia nel palinsesto feriale che in quello festivo. La media audite il viaggia sopra la soglia dei due, 8 milioni di spettatori al giorno e la puntata extra large del sabato pomeriggio riesce a toccare punte del 25% di share. Un grande successo per questa SOP che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori di Canale 5 e rimasti orfani dell'appuntamento con una vita. Intanto le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara rivelano che ci saranno ancora un bel po' di colpi di scena. Yilmaz si renderà conto di provare ancora un forte sentimento nei confronti della sua amata Zuleya. Motivo per il quale metterà in discussione il matrimonio con Muigan. Il ricco imprenditore deciderà di informare sua moglie della scelta di voler mettere la parola fine al loro matrimonio e a quel punto la reazione di Muigan sarà spiazzante. La donna, in un raptus di follia, tenterà il suicidio, ma verrà fermata in tempo. Cosa succederà a questo punto? Yilmaz andrà avanti per la sua strada oppure tornerà sui suoi passi e rinuncerà ancora una volta all'amore per Zuleya. C'è bai ploaie vând, nici un curcubeu, da' ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus pot să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sta. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot mai sus. Mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus.